Stimiamo che il valore minimo dei profitti del crimine organizzato in Europa sia almeno di 110 miliardi di euro e meno del 2% è stato confiscato. Penso che tutti qui siamo consapevoli che questo è uno dei punti chiave se vogliamo combattere il crimine organizzato. Più di 100 miliardi di euro, una cifra che si fa fatica anche solo a immaginare. Un giro d'affari per le criminalità organizzate in Europa a frutto di traffico di droga, estorsione, corruzione, riciclaggio e per combatterlo l'unica via è collaborare tra nazioni sia a livello investigativo che giudiziario. E questo è l'obiettivo della rete operativa antimafia Onnet che ha scelto Palermo e l'aula bunker del carcere Ucciardone per la sua seconda conferenza da quando è stata istituita sette anni fa dal Consiglio europeo su proposta della direzione investigativa antimafia. I soldi sono stati spesi tutti quanti per finanziare le emissioni tra un paese e un altro nel momento in cui emerge un caso internazionale. 415 arresti sono un numero in tre anni estremamente significativo per una cooperazione internazionale. Presenti stamattina investigatori, autorità giudiziarie dei 22 paesi aderenti a questa rete, massimi vertici di tutte le forze dell'ordine italiane, polizia, carabinieri, guarda di finanza, oltre al procuratore nazionale antimafia Cafiero De Rao. Il capo della polizia Lamberto Giannini, parlando delle mafie, ha sottolineato la loro grande capacità di adattarsi alle trasformazioni, di infiltrarsi nel tessuto economico, soprattutto attraverso gli appalti dinamiche, ha detto, che rischiano di venire accentuate da questa pandemia e dalle tante risorse sul piatto. Grazie. Grazie. Grazie.